Abbiamo parlato di alluminio, abbiamo parlato di una scocca estremamente leggera, un'evoluzione dei materiali e della cura dei materiali che rende questo veicolo ancora più dinamico, sportivo. Questo grazie all'alleggerimento che con questi materiali siamo riusciti ad ottenere, quindi oltre 420 kg di peso. Questo si traduce in prestazioni, a parità di motorizzazioni, un veicolo che accelera in maniera estremamente più performante e soprattutto ci dà delle soddisfazioni sia nei consumi ma in un CO2 che oggi con questo veicolo scende quasi del 18% arrivando a 194 grammi per chilometro di CO2. Quindi un veicolo che evolve in una maniera estremamente attenta anche a quello che rispetto dell'ambiente che l'Endrove sta cercando in ogni progetto e in ogni evoluzione e ancor più potremmo parlare di queste novità quando andiamo a raccontare delle motorizzazioni della nuova tecnologia ibrida che stiamo sviluppando. Parliamo quindi di quello che è stato anche l'evoluzione del veicolo a livello di interni. Abbiamo accennato i sette posti ma non dobbiamo secondo me dimenticare quella che è stata l'evoluzione importante a livello stilistico anche degli interni. Quindi linee e forme estremamente eleganti. Abbiamo detto ancora più Range Rover, quindi cura dei materiali, opportunità di scelta, e di personalizzazione di questo veicolo che crescono e anche una razionalizzazione di tutto quello che è la tecnologia interna del veicolo. Quindi molta più cura nei dettagli e nei materiali e anche in quello che è l'abitacolo per il conducente. Quindi meno bottoni, molto più interattivi e molto più facili da attuare. E sicuramente un'evoluzione tecnologica importante che ci permette di aver introdotto su questo veicolo che forse oggi è il più avanzato della nostra gamma anche delle nuove tecnologie innovative. Questo veicolo per esempio a richiesto opzionale può montare un sistema di telecamere attive. Il Surround Camera System che abbiamo già adottato in alcune versioni della nostra gamma, in questo caso l'abbiamo resi attive e quindi questo Surround Camera System può controllare dei nuovi sistemi innovativi tecnologici del veicolo. Quindi il Lane Departure Control, per esempio il veicolo può gestire e segnalare al guidatore quando si supera la linea di mezzaria e quindi qualora si perdesse lievemente il controllo del veicolo, il veicolo stesso all'allerta del pericolo, piuttosto che il High Beam Assist, cioè il sistema può riconoscere e aiutare il guidatore a gestire gli abbaglianti e gli anabbaglianti nelle condizioni di marcia. Ancora più abbiamo unito a questo sistema per esempio il sistema di guado assistito, è un veicolo che nella dinamica e nell'evoluzione tecnologica ha per esempio un'escursione molto maggiore, arriviamo a quasi 85 cm di profondità di guado, ecco questo può essere anche gestito con dei nuovi sensori innovativi, un progetto brevettato da Land Rover che permette al guidatore di assistere e di avere assistenza anche in un guado profondo, e quindi in quelle condizioni estreme, fuori statistiche, che un veicolo come questo, seppur estremamente dinamico e accattivante, può oggi permettersi, quindi tutto il DNA di Land Rover portato in un package, in un'evoluzione tecnologica estremamente elegante.